Tutti rialzano le mani Se c'è domanda se vi ciò che dice che non si può fare mai invece tutti alzano le mani. Se c'è domanda se vi ciò che dice che ciò che posso fare mai invece tutti alzano le mani. Edda è la nostra terra che coscia tutto sul lì e se la vanta stupendo mare che diciamo che cominciamo a sbrigare. Se c'è domanda se vi ciò che dice che non si può fare mai invece tutti alzano le mani. Se c'è domanda se vi ciò che dice che non si può fare mai invece tutti alzano le mani. Se c'è domanda se vi ciò che dice che ciò che posso fare mai invece tutti alzano le mani. Se c'è domanda se vi ciò che dice che ciò che posso fare mai invece tutti alzano le mani. Se c'è domanda se vi ciò che posso fare mai invece tutti alzano le mani. Se c'è domanda se vi ciò che dice che ciò che posso fare mai invece tutti alzano le mani. Se c'è un domanda se vi ciò che dice che non si può fare mai mece, tutti e assoluto le mani Se c'è un domanda se vi ciò che dice che ci potrei fare Vai a pernì, vai a pernì down, è aì, vai a pernì Vai a pernì down, è aì, vai a pernì Vai a pernì down, vai a pernì down, è aì, vai a pernì Tutte alzano le mani, se c'è un domanda se vi ciò che dice che non si può fare mai mece Tutte alzano le mani, se c'è un domanda se vi ciò che dice che ce potrei fare